Siracusa ha notificato il DASPO a sei tifosi responsabili dei disordini avvenuti nel corso dell'incontro di calcio. Continua il pugno duro della questura nei confronti di chi si rende responsabile di comportamenti violenti in occasione di avvenimenti sportivi. L'azione investigativa dei poliziotti siracusani ha avuto come conseguenza l'arresto di sei tifosi e la denuncia di sette minori che in occasione dell'incontro di calcio disputato il 13 novembre tra le squadre ASD Siracusa Calcio e Nuova IGEA si erano resi responsabili di gravi condotti antivandalici. Nella giornata di ieri ai sei arrestati è stato notificato dagli agenti della divisione anticrimine il divieto d'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive DASPO per due anni.